Un pareggio sia pur sul campo amico e contro la terz'ultima della classe che ha il sapore della salvezza. A tre giornate dal termine della stagione regolare, grazie allo 0-0 ottenuto contro la Sina Lunghese, i Nero Verdi hanno messo una serie epoteca sulla permanenza in Serie D. La formazione di mister Iacobelli è vero, si trova appena una lunghezza sopra la zona play-out ma con un vantaggio di ben 14 punti sulla stessa squadra senese. Questo vuol dire che, anche scendendo al sest'ultimo posto, ci vorrebbe un cataclisma per rientrare sotto gli otto punti dell'ormai famigerata forbice. Solo in quel modo si riaprirebbe il discorso spareggio, eventualità poco probabile. Per quanto riguarda la sfida con l'undici di Sinalunga, le cronache parlano di una partita spigolosa e avara di emozioni. Le uniche occasioni degne di nota nel primo tempo sono arrivate da Moscati per i padroni di casa e da Lucatti per gli ospiti, provvidenziale l'uscita dell'estremo difensore alienese Bala. Nel secondo tempo, dopo un paio di opportunità capitate a Marzierli e a Rosati, è la sina lunghese a rendersi più pericolosa. Prima con l'attaccante Doca, conclusione alle stelle da ottima posizione, poi col difensore Menchetti, la cui deviazione di testa si è fermata sul palo.